Che non ha niente a che fare con questa materia, mentre noi siamo qua a parlare, l'onorevole Bossi è processato a Varese per aver detto Stai zitto, stai zitto, stai zitto, stai zitto, cornuto, cornuto, stai zitto, ma truffa tu Ma bene, io me ne vado, io non avevo rubato niente Cacciatelo! No, no, mi scusi, mi scusi, senatore, senatore, senatore Ladro, 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 ladro Senta per favore, non urlate così nella mia trasmissione Scusatemi, scusatemi Non è la mia, non è la mia, non è la mia Ladro, ladro, sei stato derubato! Chi ha preso 200 milioni? Senta al disasso Chi ha preso? Ladro! Ladro! E non chiamare i tuoi guardia spalle, vigliaco! Chi ha preso? Non chiamare i tuoi guardia spalle, vigliaco! Ma per favore, per favore Per favore Si sieda, si sieda per favore Si sieda per favore Non è questo l'argomento in discussione Lei ha perso il microfono No, non senti, scusate Vittorio, Vittorio, ci sono state dette delle cose Io credo che vorrei risolvere